Hai promesso di sposarmi? Dimmi di sì. Sì. Che cazzo ci fate qua? Signor Savino? Sì. Suo figlio è dentro. In che senso l'esame gli ha procurato un altro cerwinamento? Guarda in faccia. Io non ti volevo lasciare da sola. Non ti volevo abbandonare. Ho sentito Riccardo. Mi interessa. Buongiorno. Come va? Bene, grazie. Ho bisogno di vederti. Dove sei? Quando è stato qui con noi. Lo abbiamo amato. Ci possiamo prendere una stanza di te. Anzi una casa. È la prima volta che sono veramente innamorato. Io e te. Invecchieremo insieme. Non dimenticarlo. Anzi una Honestly. È la mia sінcina. Io e te. E' la mia attena innamorato. Amo. Mi. È la mia